Alla partenza del trofeo Matteotti con Andrea Pasqualon, Andrea una corsa che si può dire alle tue caratteristiche, come ti presenti? Una corsa che già un paio di anni fa ho fatto quarto, sono arrivato davanti e so che eravamo arrivati a una ventina di corridori nella prima parte del gruppo. Diciamo che è una corsa buona, mi si adatta un po' alle mie caratteristiche, ci sono un paio di salite, un paio di strappi, anche uno abbastanza duro al finale, però diciamo che se la gamba è buona sicuramente può fare un buon risultato. La corsa è che ci tengo perché è in Italia, dei corsi in Italia quest'anno ne ho fatte non tantissime, quindi vorrei anche mettermi un po' in luce anche nel mio paese d'origine. Ecco, però è stata finora una stagione abbastanza positiva per te, sei riuscito a vincere, quindi c'è una seconda parte di stagione da onorare al meglio? Ma sì, sicuramente ho fatto una buona partita di stagione, ho fatto un giugno molto buono con un paio di vittorie, tra l'altro vittorie abbastanza importanti come la bucchia della magliella, la tappa e poi il secondo classifica generale. E adesso sicuramente abbiamo un altro mese importante che è quello di agosto e settembre, dove correremo ancora qui in Italia, a Bantani, a Agostoni, a Bernocchi, tutte quelle classiche che una volta erano ad agosto e adesso siamo a settembre. Però sicuramente è una parte di stagione dove è molto importante per me e per il mio team, dato che mi hanno dato una fiducia quest'anno e quindi cercherò insomma di onorare al meglio la maglia di Rothschild. Ecco, i tuoi angeli custodi oggi saranno Wacker e check-in? Ah sì, sono due corridori che sono sempre arrivati con me davanti e soprattutto Wacker sta passando un buon periodo adesso, vedremo insomma di tenerselo per il finale, anche se oggi penso che sarà dura tenere la corsa perché ci sono tante squadre continental e poche squadre professional, quindi sarà un po' dura che una squadra solo lavori per tenere la corsa, vedremo un attimino come si imposta la corsa e poi a metà decideremo se puntare tutto sul finale o se anticipare. Ok, grazie mille.